Sono padre Egidio, sono un francescano e sono stato invitato a partecipare all'Assemblea Generale dell'Opera di Maria. Vengo da Padova, dalla Basilica di Sant'Antonio e mi sono preparato a venire a questa Assemblea, intanto ottenendo i permessi dei superiori, ma poi anche coinvolgendoli un po' a pregare e anche questa mattina gli hanno detto che continuano a pregare per questa Assemblea dell'Opera di Maria. Ecco, ho partecipato naturalmente nei mesi scorsi, ma soprattutto poi in quest'ultimo mese, alle fasi preparatorie dell'Assemblea e ho visto, intanto ho ammirato il grande lavoro che è stato fatto in preparazione all'Assemblea Generale, ma poi anche mi sono letto tante volte i testi proprio per essere pronto a vivere questo momento sessennale dell'Opera di Maria, con l'anima anche giusta, come l'anima dichiara, come lo spiritualità dell'unità ci chiede di partecipare a questi eventi. Mi sono domandato quale contributo io religioso posso dare a questa Atremea assieme ad altri religiosi? Ecco, il contributo dei carismi, cioè di vivere questa, di portare dentro l'Assemblea, di rappresentare tutti gli altri religiosi del mondo e quindi tutti anche i fondatori, tutti i vari carismi. Perché? Perché l'Opera di Maria è il carisma dell'unità e l'unità è fatta anche dell'unità dei carismi che lo Spirito Santo ha suscitato nel mondo e nella storia.